La prima cosa che io dico è che l'Abruzzo si deve far conoscere. Noi dobbiamo puntare, stiamo puntando e credo stiamo cogliendo gli obiettivi sulla promozione. L'Abruzzo deve uscire fuori dai confini regionali. Adesso chiaramente lo scenario è un pochino cambiato rispetto a quando facciamo questo ragionamento, ma anche in questo caso prima o poi uscirà il vaccino e prima o poi si dovrà ricominciare a circolare. Dobbiamo continuare questa campagna promozionale che stiamo facendo. Una scelta, ritengo, molto vincente che abbiamo fatto e stiamo continuando a fare è quella dell'abbinamento sport e turismo. Un binomio perfetto. Ciclismo con il Giro d'Italia, abbiamo fatto questo grosso investimento con il Napoli Calcio. Mi sembra strano che ci siano delle critiche. C'è tutto un comprensorio che ha fatto il pienone a livello di ristorazione, a livello di ricettività. Abbiamo numeri di assunzioni che qualcuno continua a insistere. Non immagina che significa avere 15 giorni tutte le testate nazionali e internazionali fissate sull'Abruzzo. È un modo per far veicolare l'immagine dell'Abruzzo. Dobbiamo continuare come stiamo facendo con le rotte aeree, stiamo cercando di ampliarle. Campagne pubblicitarie importanti. E poi quello su cui noi abbiamo puntato molto, il turismo lento. L'Abruzzo si presta a questa immagine. Un'immagine che oggi viene richiesta, soprattutto da chi ha necessità di trovare tranquillità, di avere un certo tipo di svago e su quello noi abbiamo, credo, indovinato un percorso. Appena, peraltro, questo percorso che stiamo seguendo, a 360 gradi, credo si completerà con la realizzazione della famosa pista ciclabile. Quella in particolare, quella che va da Ortona a San Salvo, credo che avremo ulteriori dati positivi per l'Abruzzo.